Dopo l'appello dell'APE, l'associazione di categoria degli esercenti e baristi padovani, che chiedeva di consentire ai ristoratori di svolgere il servizio di mensa, arriva la risposta del prefetto Renato Franceschelli, che sottolinea come non sia nelle sue funzioni quella di permettere o meno lo svolgimento di questo servizio, ma la sorveglianza delle regole. La lettera, un richiamo ai sindaci, voleva solamente essere riaffermare quelle condizioni che c'erano, ci sono sempre state e continuano ad essere immutate adesso, cioè i servizi di mensa e di catering sono stati sempre ammessi fin dal primo DPCM di marzo, non sono mai stati sospesi, ovviamente hanno delle condizioni perché possono avvenire, quindi certamente quello che era parso evidente anche a sentire e a leggere quello che veniva dichiarato era che c'era un tentativo chiaramente elusivo di una normativa, il mio dovere era richiamare questa normativa, io non devo autorizzare niente, non sono io che autorizzo, le norme sono là, i sindaci hanno l'obbligo di vigilare sui servizi di prestazioni, il commercio e i servizi di ristorazione e gli esercizi pubblici ognuno si assume la sua responsabilità, ogni esercente che fa qualcosa in dispregio di una normativa se ne assume la responsabilità e se è preso o sanzionato, non c'è nulla da negoziare o da convenire, fin quando almeno che non riesca una disposizione nazionale o regionale che modifica le normative che attualmente ci sono.